Noi come Comune abbiamo aderito da subito a questa iniziativa, crediamo moltissimo che per il futuro anche di nostri figli dobbiamo sicuramente fare in modo che ci si preoccupi di dare valenza a questi valori, quindi un'acqua che sia bella, che sia usufruibile anche per quanto possibile. Comunque secondo me è un cammino veramente importante, un cammino che abbiamo incominciato, che stiamo proseguendo e che vorremmo anche alimentare in futuro. L'importanza è quella di pensare al futuro, quindi avere un'ottica in prospettiva e non accontentarsi di quello di oggi ma per lasciare un mondo migliore anche a livello ambientale ai nostri figli. Questa è un po' veramente la preoccupazione che ci siamo posti e che stiamo perseguendo.